L'economia mondiale sta attraversando una fase di recessione grave e sincronizzata, mentre l'acuirsi e il diffondersi delle torvolenze dei mercati finanziari treneranno probabilmente la domanda su scala mondiale e nell'area dell'euro per un periodo di tempo prolungato. E' di primaria importanza mantenere un atteggiamento disciplinato nella conduzione delle politiche macroeconomiche perseguendo un approccio sostenibile. E questo è il modo migliore di preservare e promuovere la fiducia. Grande cultura! Momento importante! Siamo orgogliosi di questa scelta! Andateci e feriti come è ridotto!